È scongiurato l'aumento delle tariffe dei pedaggi sulle autostrade a 24 e 25. La garanzia è arrivata direttamente dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Roma, mentre fuori dal MIT protestavano però i sindaci abruzzesi e laziali. Anas ora dovrà stilare un piano di fattibilità per l'abbattimento del pedaggio ed è stato affrontato anche il tema della manutenzione, ordinaria e straordinaria. Secondo fonti del MIT saranno impegnati 400 milioni di euro per il 2022, un miliardo per il 2023. Grande soddisfazione perché confermiamo ancora la serietà del partito, della Lega e del ministro Salvini che subito si è messo a lavorare insieme al sottosegretario Deramo per affrontare il problema del caro pedaggi sulla 24 e sulla 25. Abbiamo scongiurato il caro pedaggi, adesso siamo al lavoro per cercare di capire come poter affrontare le onerose spese che affrontano ogni giorno i cittadini abruzzesi e non solo per poter viaggiare casello a casello. Ieri intanto una delegazione dei 117 amministratori di Lazio Abruzzo ha manifestato a Roma contro il caro pedaggio e per la messa in sicurezza delle autostrade. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro, la delegazione è stata ricevuta dal dirigente Felice Morisco. La scorsa settimana c'era stata un po' di maretta perché erano stati convocati solo quattro sindaci della Lega scatenando l'ira del sindaco di Carzoli, Vede Anazzarro. Gli amministratori però non mollano, pretendono l'incontro con Salvini e insistono su una convocazione ufficiale. Le loro proposte sono sempre le stesse, esenzione pedaggi per residenti pendolari delle due regioni, accelerazione messa in sicurezza a tavolo istituzionale, riduzione del 50% dei pedaggi stante il passaggio della gestione ad ANAS. La questione intanto approda però in Consiglio Comunale perché il consigliere Stefania Pezzopani ha presentato un ordine del giorno sottoscritto dalla minoranza. Obiettivi precisi e concreti, vogliamo che il Comune dell'Aquila sia in prima fila per ottenere i giusti risultati, siamo un po' delusi perché ci aspettavamo già in legge di bilancio che ci fosse un provvedimento per abbattere gli oneri delle tariffe autostradali. Invece questo abbattimento non c'è anche se era stato promesso in campagna elettorale un impegno preciso. Il tema degli aumenti è importante ma è ancora più importante quello di ridurre le tariffe. Gli aumenti infatti erano in virtù della convenzione con strada dei parchi. Nel momento in cui autostrada diventa pubblica con ANAS il tema è se autostrada è pubblica perché bisogna pagare più che nelle altre parti d'Italia quindi vanno ridotti e poi la messa in sicurezza. Noi chiediamo al Comune che si adoperi con il ministro al ramo, il ministro Saldini perché ci sia un'accelerazione perché abbiamo tutte le gallerie o quasi ancora ad una corsia e questo crea un grande disagio per i cittadini oltre che un fattore di pericolosità che deve essere superato.